L'ho detto spesso e l'ho ribadito, io adoro MSI, ma credo sia giunto il tempo di cambiare. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi parliamo di un argomento effettivamente molto molto scottante che per me è stata una grandissima delusione. No delusione, ma comunque sapete, mi aspettavo delle cose, però la realtà dei fatti è stata un'altra. Ragazzi, prima di entrare nel vivo del video, vi ricordo che lunedì, mercoledì e venerdì, quindi oggi, sarò in live su Twitch dalle 15, quindi potremo parlare in maniera più diretta di tutti gli argomenti che volete riguardanti il mondo dei PC, RTX 3080, ok? Io avevo due scelte in mente, o avrei preso la Founders Edition, che mi piace davvero tanto, o avrei preso la Gaming X Trio 10G di MSI. Allora, propendevo di più per la versione di MSI, perché le temperature sarebbero state migliori, ovviamente tre ventole contro due ventole, di cui una è in pool, eccetera, è normale che siano migliori tre ventole. Oltretutto, le frequenze erano migliori, PCB fatto custom da parte di MSI, tre connettori da 8 pin per una maggiore alimentazione, quindi un maggiore overclock. Diciamo che fino a qui era tutto rosa e fiori per MSI, ok? C'era un design più accattivante, c'erano i LED RGB che io adoro, c'era un design proprio bello, i graffi del drago sulla scheda. Ma alla fine ho cambiato idea, perché ho visto un video, una recensione praticamente di questa scheda grafica, che è uscito credo ieri o comunque l'altro ieri, da parte di Hardware Unboxed. Allora, Hardware Unboxed è un canale di tecnologia australiano, che appunto fa delle recensioni molto molto approfondite e prima della recensione della Gaming X Trio aveva parlato molto bene della Asus TUF Gaming, o sì, di Asus appunto. Una 3080 che, sebbene abbia un PCB reference, cioè quello proprio di Nvidia, il PCB base, riesce a dare delle prestazioni migliori della Founders Edition, che ricordiamo è una custom di Nvidia, e riesce a dare prestazioni sia termiche, sia di frequenze, migliori rispetto alla Gaming X Trio di MSI. Questa cosa mi ha scioccato. E adesso vi faccio vedere. Allora, se cambiamo la scena, vediamo un pochettino i benchmark. Ok, qui stiamo parlando del 1440p. Ok, dopo lo struggle di spostare la facecam siamo qui. Vediamo che le performance sono appunto migliori della Founders Edition. Ragazzi, si parla praticamente di 5-6 frame al secondo. Se poi andiamo a overclockare, ovviamente il distacco aumenta. Qui però stiamo parlando del 2K, non del 4K. Quando si arriva al 4K, ok, il distacco comincia a essere molto più ampio rispetto alla Founders Edition, perché la 3080, oltre ad essere una scheda grafica per il 1440p, ha più di 140 frame al secondo, è ottima per il 4K. Stiamo parlando, ragazzi, di 94 frame al secondo in 4K. Un distacco di 7 frame al secondo di media dalla Founders Edition. Ok, probabilmente non è un dato così importante che mi permetta di cambiare la mia decisione sull'acquisto di una scheda grafica. Alla fine, è la verità, non è così importante. La cosa che però mi ha fatto davvero storcere il naso è questa qui. La, e devo di nuovo spostare la mia facecam, porca miseria, la temperatura media della TUF Gaming OC è molto più bassa di quella della Gaming X-Trio. Stiamo parlando di una scheda grafica, per quanto riguarda MSI, che non è il livello entry. Il livello entry proprio, il livello di entrata, dovrebbe essere la Ventus. Io delle prestazioni così me le aspetto dalla Ventus, non me le aspetto dalla Gaming X-Trio. Oltretutto la Gaming X-Trio, appunto, costa tra gli 80€ e i 120€ in più della Ventus. A me questa cosa fa girare le scatole. Basti vedere che la parte posteriore del PCB della scheda grafica, dove praticamente nella Founders c'è la ventola che ciucciaria da sopra, da sopra, ha 11 gradi di differenza tra le due schede. E ovviamente quella della TUF Gaming è molto più fresca. Il GPU DAI, cioè dove c'è la GPU, dove c'è il processore grafico, è molto più fresco. Ma anche il PCB delle memorie RAM è molto più fresco. E anche il PCB delle VRM, cioè delle fasi di alimentazione. Io questa cosa non me la spiego. Capisco che la TUF Gaming abbia un doppio BIOS e sicuramente era impostata sul BIOS delle performance, non il BIOS della silenziosità. Quando invece andiamo a creare una curva manuale per le ventole, quindi si aumenta la rumorosità anche della scheda grafica, vediamo che più o meno la situazione si allinea come si deve. Ma stiamo sempre parlando di gradi in meno sulla scheda grafica di Asus. E sinceramente questa cosa a me mi manda i pazzi, perché la TUF Gaming costa di meno della Gaming X Trio. Oltretutto dovrebbe essere un chip grafico di livello più basso, perché la TUF Gaming è la scheda grafica entry level, per quanto riguarda la 3080, di Asus. La migliore sarà la Strix. Strix non ho idea di cosa potrebbe essere allora per quanto riguarda le prestazioni, perché la TUF Gaming ha, al posto di tre connettori da 8 pin, ne ha due. Quindi voi direte, ok, l'apporto di energia non dovrebbe essere così buono da permetterle di boostare e avere prestazioni in più rispetto a una scheda grafica che ha tre connettori da 8 pin. Invece è così, perché la Gaming X Trio ha tre connettori da 8 pin. La cosa che però mi ha dato davvero molto fastidio è che, adesso vi faccio vedere, la TUF Gaming. Questo qui non è il prezzo a cui l'ho acquistata, adesso vi metterò sullo schermo il prezzo compreso di spedizione a cui ho acquistato questa scheda grafica. Qui costa, così, su Drago, Drago è uno dei rivenditori Nvidia per eccellenza, uno dei tre più famosi in Italia, e invece sul sito ufficiale di MSI, che quindi il prezzo dovrebbe essere l'MSRP, quindi il prezzo di lancio, la Gaming X Trio costa comunque lo stesso prezzo. A questo punto, signori, io mi faccio due domande. Ma vale davvero la pena spendere più soldi per una scheda grafica che scalda di più? Ha prestazioni, è vero, di pochissimo inferiori, ma ha prestazioni inferiori? Se andiamo a vedere la pura realtà cruda dei numeri, ma a me la cosa che interessa non è nemmeno quel 4-5 frame al secondo in più. La cosa che interessa è il calore generato da questa scheda grafica, perché ragazzi si parla anche di 11 gradi di differenza. 11 gradi di differenza che in un case si sentono, va bene che Nvidia ci ha detto mi raccomando studiate il vostro case affinché abbia un airflow come si deve, ma 11 gradi in più, su una sola parte della scheda grafica, perché poi ovviamente tutto calore che si va ad accumulare nel case, a me dà fastidio sinceramente. Quindi a sto giro, mi dispiace tanto caro MSI, per quanto io adori il design del tuo brand, a questo giro sceglierò TAF di Asus. Voi cosa ne pensate? Se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella. Questo era semplicemente un video aggiornamento, potremmo dire, ma anche un video che potrebbe servire a voi, a farvi aprire gli occhi e a vedere che molto spesso se prestate un po' di attenzione e fate delle piccole ricerche, potete anche scoprire delle cose migliori ad un prezzo effettivamente più basso. Grazie mille per aver seguito il video e ci vediamo ad un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao! Ciao!